Un commissariamento che vuole essere un segnale per la città dopo la sconfitta alle amministrative. Sarà una fase breve, ha dichiarato il commissario Francesco Piacente, che però era necessaria per il rilancio del partito e anche per sgomberare il campo e gettarsi alle spalle tanti discorsi che per Piacente non hanno senso, come ad esempio la presunta guerra generazionale nel PD o la presenza delle triadi. Piacente ha ribadito di aver accettato con spirito di servizio la nomina dal PD regionale. Il nostro segnale ha detto è chiaro ed è stato fatto anche per valorizzare il gesto delle dimissioni della segretaria Emanuela Di Giovambattista, che ha innescato questa nuova fase, quella che è avvenuta una delle peggiori sconfitte nella storia del PD locale, ha detto Piacente, che ha anche chiarito che parlerà lui da oggi per il partito. Sull'anagrafe degli iscritti 2021 Piacente ha spiegato che sulla città dell'Aquila ci sono 297 iscritti. Per sgomberare il falso da tante ricostruzioni per lui false, il tesseramento è già aperto, ma non si può uscire da questo momento con carte bollate e burocrazia, ha detto. Il percorso per lui ha delineato, a breve riunirà i quattro consiglieri comunali per fare un primo punto. I circoli dell'Unione sul territorio saranno pur ascoltati per avere indicazioni e suggerimenti. La presenza di Piacente insomma dovrà restituire nel più breve tempo possibile l'agibilità al partito, guardando alle politiche e alle regionali. Non siamo un partito di scontri, ha voluto dire, ma di proposte. Molto necessaria per dare un segnale chiaro, autentico di cambiamento e di rilancio del partito aquilano. La sconfitta è stata molto dura, il Partito Democratico ha avuto una lunga assemblea di analisi del voto, al termine della quale ci siamo determinati a dare un segnale alla città che fosse genuino, vero, di cambio di passo e di un momento in cui si volta pagina. Non sarà un commissariamento molto lungo, io sarò qui per dare un servizio al partito aquilano e per fare nel più breve tempo possibile tutto quello che serve per rimettere in piedi l'attività di partito, gli organigrammi pienamente in funzione. Siamo ormai già in una nuova fase, il commissariamento se sarà utile lo sarà anche per togliere dal dibattito pubblico alcuni convitati di pietra, alcuni argomenti ormai stanti che la gente non vuole più sentire, sia la nostra sia quella che ci guarda con qualche aspettativa. Tra queste anche la cosiddetta guerra generazionale. Sulla pezzo pane e sugli errori, Piacente ha aggiunto che l'onorevole ha già chiesto scusa ma le responsabilità per lui sono diffuse, il PD deve essere unito altrimenti il rilancio sarà una chimera. Se i cittadini, ha risposto poi Piacente ai cronisti, hanno scelto biondi oltre ai nostri errori, evidentemente la gente ha apprezzato il suo operato. Non condividiamo, ma evidentemente è stato così.